Buongiorno, buon sabato mattina, eccoci qua insieme a voi per guardare i giornali in edizione locale che troveremo questa mattina nell'edicole e naturalmente voi sorseggiate il vostro primo caffè, ma prima di fare la sfogliata dei giornali guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, ecco Sant'Antonio da Padova, sacerdote, il santo di oggi, sabato 13 giugno, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.51, le previsioni del tempo, guardiamo un po' cosa ci rimanda la nostra centralina, vedete il cielo sopra noi come si presenta, un carico di nuvole, a sprazzi anche qualche spiraglio, però insomma all'orizzonte vedete non fa presagire nulla di buono, vediamo le temperature anche se sono appunto elevate, vicino ai 22 gradi e un alto tasso di umidità superiore al 70% quindi che agevola questa sensazione di affa che abbiamo sentito nelle ultime ore, le previsioni appunto per oggi, il cielo poco parzialmente nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, addensamenti saranno possibili nel settore interno durante appunto le ore più calde della giornata, sono possibili precipitazioni locali o temporali pomeriani nel settore però montano e alto collinare della regione, vedete appunto la simbologia nella grafica, le previsioni per domenica però compare anche la pioggia sulla costa, soprattutto nel settore centro-meridionale, parzialmente nuvoloso quindi il cielo per nubi alte con addensamenti cumuliformi più consistenti anche qui come oggi nella parte centrale della giornata e possibilità di rovesci appunto nei rilievi lungo la costa però in settore meridionale. Le previsioni per lunedì e anche qui all'insegna della variabilità, maggiori addensamenti di nubi nei rilievi e nella parte centro-meridionale della regione, non si escludono anche locali piogge sempre in questa zona, la tendenza per i giorni successivi della settimana sulle Marche è previsto appunto tempo instabile a tratti addirittura perturbato. giornate di martedì e mercoledì con temperature un attimino un po' più fresche quindi andiamo verso temperature un po' più gradevoli. Guardiamo i giornali, partiamo dal resto del Carlino, iniziano questo qui è un periodo di esami e quindi non per tutti è un momento piacevole per gli studenti che sono sotto esame sicuramente no però anche per loro alle volte la soppesa è più amara del previsto soprattutto per una studentessa dell'ITC Battisti, leggiamo nelle pagine del resto del Carlino di Fano una protesta della madre perché questa ragazza ha la media del 9 ma non è stata ammessa all'esame, le cause sono le troppe assenze da scuola, la madre nelle pagine del Carlino dice che è in cura per uscire dalla droga che è stata la causa delle maggiori assenze però insomma doccia fredda perché appunto ieri all'uscita dei quadri non è stata ammessa pur avendo una media del 9. Ancora nelle pagine del resto del Carlino cambiamo argomento, parliamo dell'aeroporto e della questione della pista in cemento e a parlare l'amministratore unico della società Gianluca Santorelli che dice appunto sull'aeroporto c'è un silenzio assordante e accuse vengono rivolte al consigliere Minardi perché è necessaria la pista in cemento, chiederò ai soci un'azione di responsabilità civile per la vecchia gestione. E poi di Spalla il bando pubblicato per la gestione del bastione Sangallo domande entro il 19 di giugno. Terminiamo le pagine che riguardano il resto del Carlino di Fano, questione dell'ASET, a parlare del vecchio che va contro appunto il bilancio dell'ASET che lo definisce inutile e tariffe troppo alte. Il consigliere interviene appunto su questa questione, troppe tasse, avanza la sua proposta e dice presenterò un'alternativa alle cifre dell'amministrazione e la porterò come amendamento. Rimaniamo nel resto del Carlino, primo giorno di scuola per il neo eletto presidente della regione, primo giorno di scuola, vediamo com'è andata, primo giorno da presidente, Ceriscioli va ad Ancona in treno, questa è la sua prima iniziativa, lo farò tutte le mattine partendo alle 7.30 per appunto una mobilità sostenibile perché dice voglio sobrietà e è la parola d'ordine dell'ex sindaco, non avrò certo uno staff da multinazionale, quindi anche l'abbigliamento, vedete casual, informale, senza cravatta e quindi queste sono le prime, i primi feedback che ci arrivano dalla sua presidenza e anche insieme a sempre di interviste ce n'è una che riguarda il primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, salvaguardato il bilancio sociale e stiamo facendo conoscere la città, così Matteo Ricci valuta il suo primo anno di mandato in comune, Matteo Ricci molto presente sui social, molto mediatico, sfrutta molto bene l'impatto sulla società dei media e questo si vede perché insomma è percepito anche a livello nazionale della città di Pesaro attraverso tanti canali, attraverso tante iniziative, vuoi appunto l'allungamento della stagione balneare l'anno scorso con l'iniziativa appunto dei bagnini, vuoi assicurando il sole e rimborsando se hai più di tre giorni di brutto tempo, insomma queste sono iniziative che fanno sì che sui media, social Pesaro guadagni posizioni in termini di punteggio e questo ha tutto vantaggio anche dei flussi turistici, flussi turistici che vengono anche agevolati per un'altra questione importante che è stata insomma sempre sui giornali quando si è verificato il contrario di quello che adesso vi andiamo a far vedere, ovvero sia l'assenza di una fermata o di Italo o del Frecciarossa a Pesaro. È ritornata questa possibilità e quindi insomma tutto vantaggio della mobilità, l'estate è la stagione dei treni, appunto tanto per ritornare sull'argomento, raddoppiano i Frecciarossa, nuovo orario da domani delle ferrovie di Stato, qui ci sono tutte le novità, da domani appunto le fermate a Pesaro saranno quattro anziché due e i treni che ogni giorno trasporteranno i passeggeri da Ancona a Milano con fermata a Pesaro. Il tragitto da Pesaro a Milano sarà coperto in due ore e venticinque minuti, veramente un orario, insomma una tratta con un orario basso diciamo, veramente due ore e venticinque minuti per arrivare a Milano sono veramente pochi, in notte dolente però rimane il collegamento a Roma che dai me resta complicato e soprattutto non ci sono novità in arrivo per migliorare questa tratta che è per diversi motivi molto frequentata da tutti. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, guardiamo la pagina di Pesaro, naturalmente la spiaggia è il luogo di queste settimane a venire, spiaggia, spazi, gioco, benessere e ristoro, queste sono le innovazioni nella revisione del piano al traguardo all'arenile anche riservato ai cani. Siamo a Pesaro, la spiaggia dei cani è stata anche l'estate scorsa più volte richiesta da turisti e da residenti a Fano, perché mentre a Pesaro c'è, a Pesaro invece chiedo scusa non c'è e quindi insomma è una necessità per i padroni, insomma degli amici a quattro zampe. Lo strumento urbanistico verrà appunto completato a luglio, ma le nuove strutture saranno predisposte nel 2016. Andiamo sulle pagine sempre del Corriere Adriatico, però che ci portano alla, in evidenza, cronaca, sorpreso in casa con l'ascis, quindi blitz della polizia, dopo vari appostamenti la droga era anche, ahimè, per i minori. Questa è una notizia che ci viene da Urbino, e la zona è quella di Fermignano. E poi ancora dall'interno, da Fossombrone, due ladre di scarpe subito prese, tempestivo intervento dei carabinieri, il negoziante derubato, li ringrazia, il tutto è avvenuto a Fossombrone. Fano per quanto riguarda il Corriere Adriatico, la strada delle barca, anche questa è un'argomentazione presente da tempo sui giornali e anche sui media, ce ne siamo occupati diverse volte anche noi, la strada delle barche si farà. Ecco, in questo articolo di Massimo Foghetti si farà, il ricorso è stato vinto e quindi il Tar dà ragione al Comune e il nuovo soprintendente neanche si oppone. c'era sempre stato lo stop, il niet della sovrintendenza a questa strada, che serve per sicuramente creare una mobilità migliore, ma poi anche aumentare e sviluppare questo comparto che tanto ha subito in termini di recessione negli ultimi anni, negli ultimi decenni, possiamo dire. Gara, per appunto il bando di gara entro dicembre, però insomma il Corriere dice tra luci e ombra, quindi non tutto sarà, non è poi così chiaro. Segnali di ripresa, appunto dalla Nautica, che è un comparto che ha sofferto molto, e la Pesci, un vara a Marina di Cesare, per il terzo Maxi Yacht da 108 piedi. Ieri allo stadio Mancini si è vissuta una bella serata di sport, all'insegna della solidarietà, all'insegna della sportività, quindi al Mancini vincono, non vince soltanto l'Alma, ma anche l'allegria e il cuore. La squadra dei prefetti batte la Nazionale di Calcio TV per 5 a 2 e segna anche il questore Laureone, incassati più di 5.000 euro. Vedete qui in basso la formazione Calcio TV, Gabibbo compreso, che insomma è in campo, se l'è divertita sicuramente anche lui, oltre agli spettatori che erano veramente in tanti, insomma. E quindi sono andati un po' coi piedi di piombo, quando c'erano da fare gli interventi gli artisti della televisione contro i magistrati, non si sapeva mai. Comunque il clima era molto sportivo e molto bello. Aset in crescita, cambiamo argomento, utile da 1,5 milioni, capodagli nel 2014, tariffe domestiche ridotte, un fondo anticrisi di 300.000 euro. Questa è la fotografia. E poi, bella estate di eventi con pochissima spesa. Sono tanti gli appuntamenti di cultura, spettacolo, sport, con un budget di appena 3.000 euro. Siamo a San Costanzo, che cerca di fare, come si può dire, una buona figura, ottimizzando i costi, i costi naturalmente della gestione dell'estate. Cambiamo testata, l'ultima che vi facciamo come sempre vedere, il messaggero, vediamo cosa ci dice a Pesaro. Anche qui Ceriscioli, debutto in Regione, il primo giorno di scuola per il Presidente, il primo giorno da Presidente, prima nomina, l'ex sindaco di Ancona è stato nominato a capo della segreteria. Però resta il rebus della Giunta, perché ancora non si sanno i nomi. Farò scelte che uniscano. Non voglio rendere il PD una polveriera, quindi cerca di buttare un po' di acqua sul fuoco. Fotonotizia è l'incanto della mezzanotte bianca dei bambini, è iniziata ieri pomeriggio in centro storico e proseguirà fino a questa sera alle 23. Il meteorologo ci dice appunto il ritorno dei nuvoloni, quindi insomma dopo l'AFA i nuvoloni. E quindi Ceriscioli in Regione come primo atto nomina, vi abbiamo fatto leggere nei titoli, Sturani, quindi l'ex sindaco capo della segreteria ha qualità politiche e quindi lui dice lavorerò per trovare l'unità Schiapichetti. Questa è la sua dichiarazione, il consigliere regionale PD Schiapichetti. Ancora dalle pagine del messaggero per Pesaro, l'abbiamo letto anche nei giorni scorsi, vigili urbani hanno raccolto le firme contro il loro comandante Galdenzi che si era fatto portatore di un'iniziativa per premiare i più e i meno assenteisti in termini non di malattie ma proprio di assenze, premi ai più presenti, però gli era stato rivolto un'accusa di insomma di voler tacciare di assenteisti il corpo dei vigili, però lui insomma botta e risposta ribadisce mai parlato di vigili assenteisti. Il comandante Galdenzi dopo la lettera dei 61 non intendeva punire coloro che per i legittimi motivi non possono essere al lavoro e questa è la sua dichiarazione. Vediamo le pagine che riguardano Fano e l'Interland per il messaggero, profughi, la questione dei profughi, piccoli lavori anche a Fano, nella città della fortuna, stipola con la prefettura un protocollo di intesa per far svolgere attività di volontariato socialmente utili. L'iniziativa della Caritas con un rifugiato a casa mia prevede 300 euro alle famiglie che ospiteranno un immigrato. Vediamo invece la pagina proprio che riguarda Fano, su che cosa è centrata, sulla questione del porto e del dragaggio che i 5 Stelle accusano che il recente intervento si è rivelato inutile. Quindi l'emergenza resta a porto, il mini dragaggio è un flop perché i pescherecci vanno in trasferta a Pesaro nel fine settimana, le barche fanno scalo nel capoluogo e il pescato viaggia avanti e indietro sui camion frigo. Entrate e uscite dalla Darsena, entrare e uscire dalla Darsena comporta manovre ad alto rischio di incidenti per le imbarcazioni. Rimaniamo sempre sul porto, sul mare, di spalla qui problemi all'Arzilla per alcuni cumuli di ghiaia che si sono mischiati alla sabbia riportata e ora sono difficili da rimuovere, vedete il sindaco in un sopralluogo ma qui non è all'Arzilla ma è nella zona di Viale Ruggeri dove invece è stato completamente ripristinato tutto il littorale e però insomma permangono questi problemi che riguardano la spiaggia dell'Arzilla. Poi una centrale di cronaca, spaccano i finestrini ad un'auto in sosta, ancora dei ride vandalici al lì, l'Ido. E poi al via un'iniziativa che è cresciuta sempre di più esponenzialmente anno dopo anno, letteraria, gli studenti scelgono il libro più bello, sono 63 i libri in concorso, si incomincia oggi via della manifestazione e oggi pomeriggio alle 18 e poi a Fano saranno presenti i autori e traduttori dal 9 all'11 di ottobre nella fase conclusiva. Nell'articolo qui ci sono anche i nomi degli scrittori e dei traduttori che saranno presenti, sono di livello nazionale e anche internazionale per questa bella iniziativa. Bene, questa era l'ultima notizia, l'ultima sottolineatura che vi facevamo vedere per quest'oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Termina qui, Occhio ai giornali di oggi sabato, tornerà naturalmente lunedì mattina alle 7.30 puntuali. Questa sera non perdetevi Occhio alla Notizia, ma per restare aggiornati sempre in tempo reale, il nostro sito www.occhioalanotizia.it oppure la nostra pagina Facebook. Buon sabato a tutti voi.